Addio Massimiliano Slongo, aveva 40 anni, era consigliere comunale e uomo di sport. Purtroppo apriamo con questa tristissima notizia la rassegna stampa di venerdì 26 gennaio. La notizia della morte è giunta improvvisa ieri sera al lutto in paese, originario di Sorriva, abitava con la moglie a Daune. Siamo a Sovramonte, c'è questo articolo di Roberto Curto. Una notizia piombata improvvisa nella serata di ieri che ha sconvolto la comunità di Sovramonte. È morto Massimiliano Slongo, il quarantenne consigliere comunale di maggioranza, conosciutissimo in paese non solo per l'attività amministrativa ma anche per il suo impegno in campo sportivo. Slongo era affetto da una malattia che lo aveva aggredito da un paio d'anni e per la quale seguiva terapie e trattamenti. Le condizioni si sono improvvisamente aggravate negli ultimi giorni, tant'è che la moglie Francesca ha voluto tenerlo a casa per fargli trascorrere gli ultimi giorni tra i suoi affetti. Una condizione, quella della malattia, affrontata con la riservatezza che lo contraddistingueva da sempre, ma da non confondersi con un atteggiamento distaccato verso le persone con cui collaborava e le cose che seguiva. Tutt'altro. Era stato eletto nell'ultima tornata elettorale amministrativa e il sindaco Federico Dallatorre gli aveva affidato il compito di seguire in particolare il settore sportivo, materia nella quale era in grado di parlare e operare con cognizione di causa. Assieme a Leonardo Reato e Loris Dallavalle era anche componente della commissione urbanistica, era laureato in ingegneria informatica. Da qualche tempo aveva dei problemi a deambulare e per questo lavorava soprattutto da casa facendosi accompagnare il municipio della moglie Francesca tutte le volte che era necessario. Non è mai mancato nessun consiglio comunale portando sempre il proprio contributo in modo fattivo, con competenza e con garbo. Il decesso di Slongo ha lasciato nella costernazione l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Federico Dallatorre e tutti i colleghi che in questi anni avevano avuto la possibilità di conoscerlo e collaborare con lui. Ma il colpo è durissimo anche per il calcio a sovramonte di cui era stato giocatore sia in terza categoria, sino perfino nel campionato del centro sportivo italiano. Attualmente era comunque impegnato a sostegno di tutte le attività portate avanti dalla società. Colpita la comunità di Aune dove il quarantenne viveva con la moglie Francesca, eppure sorriva dove abitano i genitori. Ieri sera la notizia ha gelato i cuori dei sovramontini, impossibile parlare o commentare, solo silenzio. Decisamente una notizia terribile, appunto impossibile, come dice l'articolo, parlare o commentare. Andiamo alla prima pagina del Corriere e cambiamo del tutto argomento, dove c'è la notizia. Sindaci, possibile il Tris. Il governo Meloni vara l'election day dell'8 e 9 giugno con europee e amministrative e apre al terzo mandato nei centri medio-piccoli. C'è il via libera per i comuni tra i 5 e i 15 mila abitanti. In Veneto nel 2024 giochi aperti per 42 comuni e 42 nuovi cittadini. E c'è l'intervista, pagina 27, al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Andiamo alla pagina interessata, la recuperiamo e leggiamo appunto l'intervista di Francesco Dalmas. Eccola qui. Padrin plaude al via libera al terzo mandato, ora che pensavo di passare il testimone. Il sindaco di Longarone lascia aperto uno spiraglio. Sono stati anni di fatica e devo parlare con la mia maggioranza. C'è l'intervista di Francesco Dalmas. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per l'election day, che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Scusate. E con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. In quelli fra i 5 e i 15 mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato. Sotto i 5 mila viene cancellato del tutto il limite. E c'è l'intervista appunto a Roberto Padrin, sindaco già due volte di Longarone, presidente della provincia, che è soddisfatto, ma lo dico subito, non ho ancora deciso se mi ricandiderò. Nei mesi scorsi si è ventilata l'ipotesi del terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni, ma ultimamente non se n'era più parlato ed io banalmente mi stavo preparando a passare il testimone. Non saprei bene a chi le disponibilità sarebbero maturate nelle prossime settimane. Mi riprenderò qualche giorno di riflessione ora che il quadro legislativo è definito. E intanto consulterò la maggioranza. Ascolteremo insieme le attese di chi vorrà collaborare per portare a compimento i programmi che ci eravamo dati con spirito di servizio. E la notizia del cambiamento legislativo c'è anche sul gazzettino, che andiamo quindi a leggere subito, a dare un occhio subito. Elezioni sindaco a vita in 49 comuni. Nessun vincolo di mandato per i municipi sotto i 5.000 abitanti, si legge nel sottotitolo, in quelli fino a 15.000 possibile il terzo. Anche Padrini può ripresentarsi. Rivoluzione per i piccoli comuni, dove potrebbe essere scongiurato per sempre il rischio commissario. Non c'è più il limite dei tre mandati per i sindaci e per i comuni tra i 5 e i 15.000 abitanti via libera il terzo mandato. Si rimescolano le carte per le elezioni dell'8 e 9 giugno, nuovamente candidabili dal primo cittadino di Longarone, presidente della provincia Roberto Padrin, il sindaco di Pontellare Alpi Paolo Vendramini, ma anche Milena Dezanette a Livana. Per i 49 comuni bellunesi sotto i 5.000 abitanti, i sindaci decani potrebbero continuare a vita a restare nei loro municipi. Un'ipotesi che non attira. Il sindaco di Livina Longo, Leandro Grones, dice sarcasticamente fra un po' dovranno fare la legge per obbligare qualcuno a fare il sindaco. Ma con le nuove regole, il sindaco uscente Giancarlo Ianesi di San Nicolo Comedico potrebbe battere il record degli otto mandati. E c'è appunto qui sul gazzettino un approfondimento con diverse riflessioni. Via i limiti, sindaci a vita in 49 comuni. Ieri il governo ha eliminato il tetto dei mandati nei piccoli enti e ha aperto il terzo mandato in quelli tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Rivoluzione per i piccoli comuni, si legge appunto in questo articolo di Olivia Bonetti. Secondo me è una legge che limita la partecipazione, afferma il sindaco di Pontellare Alpi Paolo Vendramini. La legge lo riguarda da vicino, potrebbe fare il terzo mandato ma rinuncia. I sindaci però ci sono anche i possibilisti. Se Vendramini esclude a priori non lo stesso si può dire per Roberto Padrin, sindaco uscente di Longarone, che appunto come leggevamo sul Corriere delle Alpi non esclude la possibilità di ricandidarsi. E anche Milena Dezzanette dopo dieci anni alla guida di Limana non esclude una ricandidatura. Valuteremo, ne parlerò con il gruppo e vediamo come muoverci. Non dico né sì né no. Dieci anni sono tanti da sindaco. Dieci anni da sindaco anche per Stefano Deon. A Sedico, il Tris, non ho ancora deciso, ero già proiettato alla fine della mia avventura amministrativa. E poi si sbilancia. Più no che sì. Gli altri. I sindaci dei piccoli comuni già prima potevano fare tre mandati ma ora non ci saranno limiti. La nuova legge quindi rimette in gioco Andrea De Bernardino, sindaco di Roccapietro, che non si sarebbe mai potuto ricandidare. Si candiderà, non voglio scoprire ancora le carte, ha detto appunto. E Leandro Grones, sindaco di Divina Lungo del Col di Lana, poteva comunque ricandidarsi ma ricorda le difficoltà che hanno gli amministratori. E poi c'è Ianesi a San Nicolò Comerico che potrebbe battere il record otto volte prima, primo cittadino, scrive. Yvonne Toscani. Con il decreto del Consiglio dei Ministri per l'Election Day, appunto, che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative regionali, viene anche eliminato il limite per i mandati ai sindaci e dei comuni. Con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in provincia su 60 municipalità, 49 sono al di sotto della soglia. Al limite si pone Lungarone, appunto, come dicevamo. Il sindaco da record, che sarebbe appunto Giancarlo Ianesi, sindaco di San Nicolò Comerico, da 60 anni nelle stanze dei bottoni del Comerico, potrebbe battere ogni record e diventare sindaco per ben otto volte e al momento non si sbilancia. Classe 1942, primo cittadino uscente, al timone in interrottamente dal 1990, con parentesi, da vice sindaco. Ritorniamo al Corriere delle Alpi e leggiamo altre notizie, cambiamo di nuovo argomento, ci spostiamo a Belluno, dove si dice stop a nuovi ponti, alla Cucciolo Marisica, sperimentazioni per la nuova viabilità, accantonate alle infrastrutture di Visomelle e San Pietro, gamba, con i dati in mano faremo test e decideremo. Ne scrive Alessia Forzin. Quante auto transitano per le strade del capoluogo e dove si dirigono? La risposta arriverà dallo studio sui flussi di traffico che il Comune ha commissionato a Redas Engineering, società di consulenza della pianificazione e di pianificazione nel campo dell'ingegneria dei trasporti, esperta nella raccolta di dati sulla mobilità di persone e merci, e anche a Net Mobility, società di ingegneria, che si occupa in particolare di pianificazione del traffico. Il lavoro di queste due realtà, che si concluderà fra un anno, permetterà al Comune di predisporre il piano urbano della mobilità sostenibile. Oggi, infatti, la costante è rimanere in coda a qualsiasi ora del giorno. Se un tempo gli orari critici erano quelli di entrata e uscita da scuola e inizio fine lavoro, oggi il traffico è intenso per tutta la giornata. Le zone critiche sono note agli automobilisti come all'amministrazione, la Statale 50 fra Ponte Belluno, con via Tiziano Vicelio, via Vittorio Veneto, via Le Medaglie d'Oro, il ponte degli Alpini, via Internati e Deportati e via l'Europa, la Rotatoria della Cerva, la zona di San Gervasio, ma anche il centro che ha dei flussi con criticità, ad esempio in via Caffi e via Segato. Ma appunto al momento, si dice stop, è parcheggiata la cucciola marisica o comunque un collegamento fra la Gordina e la Statale 50. E poi ancora spariscono dai radar i ponti di Visomelle e fra San Pietro in campo e Sagrogna sono impensabili oggi per ragioni economiche non solo, dice Gamba. E per quanto riguarda la cucciola marisica, una circonvallazione vera porterebbe le auto diriderci verso Sedico, Ponte San Felice ed eccoci in sinistra Piave. ragionamenti di ampio respiro che diventeranno concreti non appena saranno pronti appunto gli studi sui flussi del traffico. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, ci spostiamo alle pagine di Feltra, andiamo a leggere dopo sul gazzettino. e invece diamo un occhio alla notizia che è stata diffusa anche ieri tramite un comunicato e che è finita sui social che riguarda atti vandalici al bivacco Costa Curta. Siamo in comune di Borgo Valbelluna, interni devastati al bivacco Costa Curta. Il bivacco Costa Curta sotto attacco alla struttura situata tra gli abitati di Signa e Zelante, in Val di Botte, è rimasta danneggiata dall'assalto dei vandali che ne hanno devastato gli interni. I cacciatori della riserva alpina di Melle che si occupano della pulizia hanno infatti ritrovato la stufa di velta e distrutta assieme ai tubi di raccordo con la canna fumaria. Le indagini sono state avviate, gli inquirenti nel frattempo hanno effettuato un sopralluogo con l'amministrazione comunale rimasta fortemente amareggiata. I nostri bivacchi, dice l'assessore Simone Deola, così come la rete sentieristica, sono un patrimonio della collettività. È difficile capire cosa passi per la testa di chi compie tali atti di vandalismo. E poi siamo a Gosalto, c'è un articolo a firma di Cristina Contento, intossicato dal monossido, grave cinquantenne. L'uomo, operatore sanitario, è stato ritrovato dalla sorella, privo di sensi in casa. L'innesco, una stufa con bombola in bagno. Intossicazione dal monossido a causa della stufa gas messa nel bagno. Un cinquantenne di Tisera è ricoverato in progno risiriservata al caffoncello di Treviso. È grave, in terapia intensiva. L'uomo doveva andare a pranzo dalla sorella, ma l'appuntamento non si è presentato, destando più di un sospetto. La parente è andata quindi in casa a Tisera a vedere che non fosse accaduto nulla di grave, in quanto, pur telefonando, non aveva ricevuto risposta dal fratello. Effettivamente il cinquantenne a Gordino era riverso in terra, nell'abitazione dove vive da solo nella frazione di Cosaldo. Aveva perso i sensi, si pensa dopo la doccia e mentre si vestiva. Intervento d'urgenza dunque per i vigili del fuoco e per i sanitari del suo, che sono arrivati con un'ambulanza ed elicottero. In ospidale si scoprirà che l'uomo, un operatore sanitario che lavora a Belluno, era rimasto intossicato da monossido di carbonio, il terribile gas in odore sprigionato dal malfunzionamento di sistemi di riscaldamento a legna, caminetti o stufe in genere. Il ritrovamento tra le 12 e le 12.30, quando poi sono intervenuti in forze i soccorsi chiamati dalla sorella del malcapitato, che era andata a vedere piena di preoccupazioni. Leggiamo ancora una notizia e poi passiamo al gazzettino. Andiamo a Borca di Cadore. Sull'ex villaggio Eni la tutela raddoppia, interventi sulle case sempre più difficili. La soprintendenza via l'iter per il vincolo architettonico, lavori di privati bloccati, eventuali alloggi per gli atleti no. Ne scrive Gianluca De Rosa. Sull'ex villaggio turistico Eni di Borca arriva la stretta della soprintendenza. È stato infatti avviato un procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del complesso che d'ora in avanti sarà sottoposto a tutela non più solo paesagistica ma anche architettonica. Tradotto in soldoni, da questo momento in poi, qualsiasi tipologia di intervento sugli immobili situati nel contesto dell'ex villaggio turistico Eni in località Corte delle Dolomiti di Borca dovrà essere sottoposto al parere della soprintendenza per ottenere o meno l'autorizzazione a procedere. La misura è stata comunicata, oltre che a tutti gli interessati proprietari delle unità abitative situate appunto all'interno dell'ex villaggio, anche al comune di Borca che ora dovrà ridigere, di comune accordo con la soprintendenza, un prontuario in grado di gestire in maniera onivoca le domande. Il villaggio olimpico non c'entra assolutamente niente con questa situazione. Ha presto chiarito il sindaco di Borca, Bortolo Sala. E passiamo ora appunto al gazzettino. Andiamo a leggere alcune altre notizie. Ci spostiamo, vediamo le altre pagine. Allora, andiamo alle pagine che riguardano feltre, come anticipavo, rifiuti urbane, isole ecologiche interrate. L'amministrazione ha programmato la realizzazione di sette cassonetti. Il costo sarà di un milione di euro. Il progetto, realizzato grazie ai fondi del PNR, interesserà in particolare il centro, la stazione ferroviaria e il palaghiaccio. Sette isole ecologiche del comune di Feltre saranno nella prossima primavera interrate grazie a un milione di euro del PNRR, risorse che consentiranno anche di sostituire tutte le calotte del secco ed acquistare una nuova gru. Nell'ultima seduta di giunta è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di sette isole ecologiche interrate nel comune di Feltre. Si tratta di una progettualità che ha mostro i primi passi nel febbraio del 2022 con la candidatura a un bando del PNRR e che trova finalmente concretezza con l'approvazione del progetto esecutivo. Si attende ora la conclusione dell'iter burocratico con l'affidamento di lavori e nel corso della prossima primavera i vari cantieri dovrebbero prendere avvio. Il progetto, dal valore complessivo di un milione di euro, è stato presentato nel febbraio appunto del 2022, ma solo nel corso del 2023, è stato finanziato e ne scrive Eleonora Scartone. E poi c'è una buona notizia alla Mon dove l'ospedale riapre dopo 15 mesi. Con l'arrivo ieri dei pazienti che erano ancora ricoverati a Feltre, l'attività della riabilitazione è ripresa a pieno ritmo. Il sindaco Maccagnan, la nostra comunità, si identifica con la struttura, l'economia gira intorno al nosocomio. La firma è sempre di Eleonora Scartone. Pannoncini bianchi e rossi e festoni lungo la scalinata che conduce all'ingresso del centro riabilitativo di Lamone. E poi quel grande striscione con scritto Bentornati. Così la comunità di Lamone ha accolto ieri pomeriggio la riapertura dell'ospedale dopo i lavori di ristrutturazione a modernamento portati avanti negli ultimi anni. Con oggi, ieri per chi legge, riprende l'attività presso presidio ospedaliero di Lamone, a forma con soddisfazione il commissario dell'Ulss 1 Dolomiti Giuseppe Dalben. Una struttura che è stata completamente rinnovata, rivista nella sua dotazione tecnologica alberghiera, ora che oltre che messa pienamente in sicurezza dal punto di vista antisismico. Ieri pomeriggio, subito dopo pranzo, grazie al supporto dei volontari di Vora con la regia della direzione medica, i pazienti che attualmente erano ospitati all'ospedale di Feltre sono stati portati a presidio ospedaliero di Lamone, dove sono stati accolti dal personale dell'unità operativa lieto di rientrare nella sede lavorativa dopo il periodo trascorso a Feltre. Come è noto, infatti, per dare un nuovo sprint ai lavori, l'allora direttore generale Maria Grazia Carraro aveva deciso di chiudere le elegenze e l'attività di riabilitazione nell'Alto Piano. Era l'ottobre del 2022. Questo ha consentito di procedere più velocemente con il cantiere e di arrivare nel dicembre scorso all'inaugurazione della rinnovata struttura. Queste settimane sono poi servite per le ultime finiture per concludere la parte burocratica. Poi ieri, la riapertura del primo e del secondo piano, ossia quelli dedicati alle degenze. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Vi aspettiamo, come sempre, puntuali domattina sulle frequenze di viato piave e poi anche sui nostri canali social dalla pagina Facebook a YouTube. A tutti un buon venerdì, un buon fine settimana, grazie mille per l'ascolto e a prestissimo. Arrivederci.